ciao amici di gorizia tv eccoci qua una bella iniziativa intrasalpina bambini sloveni e bambini italiani alla ricerca della candela pitturata che dopo si svolgerà questa manifestazione anche in via rastello non sono riuscito a trovare le persone che hanno organizzato il tutto però mi dispiace moltissimo che ho intervistato ania del bar lì che ha detto che veramente una bellissima iniziativa questa comunque nel finale c'è la sua fotografia è un grande saluto allora lasciamo come che sta e guardatevi il bel servizio di questa manifestazione è bello però Hai trovato? Senti, gli puoi spiegare più o meno adesso loro cosa fanno qua? Eh non so perché sono stata invitata, non so. Ah non sai? Forse tu sai cosa fanno loro. Adesso cosa fanno? Queste lanterne sono state accese oggi e verranno riaccese in via Rastello domenica. Domenica. Dove ci sarà un mercatino, ci saranno le scuole che hanno partecipato e le lanterne poi verranno restituite se le famiglie vogliono ai bambini. Senti ma io vedo che stanno cercando qua, cosa stanno facendo? Sì stanno cercando ognuno la propria lanterna. Ah ma voglia di cercarla no? Va bene, grazie mille. Niente. Ciao, grazie ancora. Va bene. Va bene. Allora come hanno detto le signore praticamente che adesso stanno, ecco la trovata. Le stanno cercando e verranno accese domenica in via Rastello. Ognuno deve cercare le sue lanternine. Guardate un po', una bella iniziativa. Siamo in Trasalpina. Ecco, avete visto, queste sono delle belle iniziative che si possono fare più spesso. Non, 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 non. Opa. Senta. Opa. 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 Senta. Opa. Ma è un po' duro cercare. Com'è? Cercare la propria... È un piacere. È un piacere? Sì. Ma come la fai a cercare? Dimmi, giusto così per sapere. Piano piano, uno per volta. Ma c'è un nome? C'è un nome? No, c'è un disegno. Ah, c'è un disegno. Adesso ho capito. Tutti valgono uguali. Ah, ognuno ha il suo disegno? Esatto. Grazie mille. Grazie a lei. Allora avete capito? Ognuno ha il suo disegno. Bisogna cercarlo e li capisci quale che è il tuo. Come va se è un po' dura? Riesci a trovare o no? Ha trovato lui. Ha trovato? Ha trovato, sì. Questo è tuo allora? Sì, questo è dietro. Ah, benissimo. Perfetto, hai visto? Tanta fatica però siamo arrivati. Si è arrivato. Ciao, ci vediamo. Ciao, grazie. Il video stava dando un po' i numeri. Forse il freddo. Chiudiamo qua il servizio. Bene, chiudo, è qua. Adesso vi faccio vedere Anja che l'ho intervistata. Mi dispiace moltissimo. Probabilmente il freddo qualcosa non è andato. Saluto questa grande e speciale ragazza Anja che lavora al bar della Trasalpina. Un salutone. Ciao. Ciao. Ciao.